Non c'è stato nulla da fare per una persona che all'alba di martedì è stata travolta e uccisa lungo la A4 tra i caselli di Peschiera e Somma Campagna mentre camminava a piedi. Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie della polstrada. È successo alle 5.35. L'uomo, che ha circa 40 anni, è stato investito e ucciso mentre, come detto, stava percorrendo a piedi questo tratto di autostrada. Non è dato sapere perché si trovassi in una zona così pericolosa, con una luce non ancora piena e dunque a forte rischio. Forse aveva avuto un incidente, forse non si è trattato di questo, ma molto più banalmente di un'imprudenza, purtroppo però per lui fatale. Quel che è certo è che questo episodio ricorda quello, però più fulminio, anche se non meno devastante, di qualche giorno fa, quando Nicolas Andrioletti Vicentino fu investito e ucciso lungo la A4 in direzione di Vicenza alle 2 di notte. Il 19enne non aveva avuto scampo, è sceso dall'auto, era stato falciato da una vettura che sopraggiungeva. La vittima era uscita dall'abitacolo dopo aver avuto un piccolo incidente mentre si trovava a bordo dell'auto con la fidanzata che era alla guida. La ragazza aveva sbandato ed era andata a cozzare contro il guardrail a destra e fatalmente la portiera del passeggero dove sedeva la vittima era bloccata. Mentre la giovane era uscita in fretta e si era messa in salvo, non altrettanto fortunato era stato lui, travolto da un'utilitaria che stava transitando in quel momento e il cui conducente non si sarebbe accorto del pedone se non purtroppo all'ultimo momento, non potendo però più far nulla per evitarlo.